Un punto tutt'altro che da disprezzare, ma anche una buona e giustificata dose di rimpianti per il mancato successo. Il Lecce torna a casa con un pareggio di prestigio dalla Sicilia. Finisce 1-1 contro il Trapani, l'anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie C, ultimo atto dell'anno solare che sta per concludersi. Diventano così 17 i risultati utili consecutivi dei Salentini, che probabilmente con questo risultato escludono dalla corsa alla promozione diretta la formazione di Alessandro Calori in virtù del più otto in classifica e del vantaggio negli scontri diretti. Fabio Liverani conferma lo stesso 11 che ha stravinto il derby con la Virtus Francavilla. Partenza lanciata dei pugliesi che ci mettono 5 minuti per spezzare l'equilibrio. Mancusu trova una splendida soluzione con il destro che non lascia scampo all'estremo del Trapani Furlan, il migliore in campo dei suoi. I padroni di casa danno la sensazione di far fatica ad assorbire il colpo. Il Lecce, invece, offre l'impressione di poter controllare la partita e avere le carte in regola per aumentare il vantaggio. A 10 minuti dall'intervallo, però, i siciliani trovano il rocambolesco pareggio. Lo realizza Murano, che sfrutta una traiettoria valutata nel peggiore dei modi sia da Riccardi che soprattutto dal portiere Perrucchini. 1-1, parità ristabilita, risultato che poi resta intatto sino all'intervallo. Liberani, a rientro dagli spogliatoi, si gioca la carta Zonev al posto di Costa Ferrera. Gli ospiti, nella prima parte della ripresa, non rinunciano alle conclusioni dalla distanza, ma i tentativi di Arrigoni prima e Lepori poi peccano a livello di precisione. Il tecnico di Sarentini, in seguito, inserisce anche Persano al posto di Caturano. Il non entrato ha una ghiotta occasione in mischia prima della mezz'ora, ma Furlan risponde in maniera superlativa. Si fa notare nell'ultimo quarto d'ora anche il Trapani. Marras ci prova con la soluzione incrociata. Perrucchini riesce a deviare in corner. Pallonetto poi, dello stesso esterno del Trapani, palla di poco sul fondo. Finale di partita, il Lecce non si accontenta del pareggio e prova a vincerla. Mancosu colpisce di testa l'estremo siciliano, risponde ancora presente. Idem in pieno recupero quando si oppone con un prodigio alla sventola con il destro di Torromino. Finisce così 1-1 allo stradio provinciale. Il Lecce arriva alla sosta con 45 punti collezionati in 20 partite disputate. Alla ripresa, dopo il lungo letargo di inizio gennaio, i Salentini sono attesi da un altro scontro al vertice, quello in programma domenica 21 al Via del Mare contro la vicecapolista Catania.